Ponte Milvio può essere considerato l'origine della Roma cristiana e per secoli è stato visto come l'ingresso a Roma per antonomasia. È emozionante pensare che quando lo attraversiamo camminiamo effettivamente sulla strada che percorse Costantino. Costantino stesso sul ponte affrontò Massenzio. Sconfitto Massenzio, Costantino entrò a Roma per la via Flaminia che ancora oggi si apre dritta davanti al ponte.